Siamo a Rob de Matto, uno straordinario posto in Municipio 9. A proposito di Municipio 9, si voterà anche per i municipi a Milano il prossimo 3-4 ottobre. Sono con Claudia Mazzei, che si presenta nella lista del PD proprio in Municipio 9. Claudia, raccontaci tre cose che vorresti davvero fare per questo municipio. Questo municipio mi ha adottata, sono napoletana di origine, ci vivo da 22 anni e creo relazioni di mio, dalla mia natura mediterranea, dalla mia nascita partenopea. Mi piace creare relazioni, metto in relazioni soprattutto associazioni, famiglie, bambini, anziani, mi occupo di terzo settore. Sono un'insegnante di una scuola media, musicista di formazione e quindi il mio obiettivo principale sarà di mettere in relazione le persone, le persone del quartiere, gli abitanti dei quartieri con terzo settore e associazioni per riempire principalmente il nostro municipio di cultura. Amo la cultura di ogni genere, dalla musica che è la mia formazione, quindi è il mio cavallo di battaglia dove sono esperta, ma anche all'arte, la danza e tutto quello che può riempire di bello e formare i cittadini di domani, ma anche rallegrare quelli di oggi. Allora, 3-4 ottobre, municipio 9, lista PD, scrivi Mazzei. Mazzei, scheda verde. Mi raccomando. Ciao.